Torino, Rivoli, Settimo, Moncaglieri, 20, 21, 22 ottobre 2022. Ci vuole una città per fare una scuola, ma ci vuole anche una scuola per fare una città. Tre giorni di dibattito, di confronto, di scambi e di progettazioni future. In questi tre giorni, insegnanti, educatori, assistenti sociali, psicologi, cittadini, tutti si incontreranno in numerosi workshop, laboratori, focus. Insieme cercheremo di capire come poter inventare, rimmaginare una scuola e una città più inclusiva. Molti saranno i temi che tratteremo, l'inclusione scolastica, il contrasto alla povertà, come anche pensare i social in un'ottica più educativa e non passivizzante. Ci occuperemo di come anche le cooperative, le associazioni di volontariato, possono coprogettare insieme con le istituzioni. In questi tre giorni, cercheremo di partire dalle esperienze, di confrontarci sulle esperienze, per riuscire a intravedere delle metodologie, delle strumentazioni didattiche, capaci di essere alla portata delle nuove generazioni. Ma soprattutto saranno tre giorni in cui ricercatori, studiosi, amministratori, tutti insieme con insegnanti, animatori, associazioni, tutte, potranno immaginare il futuro della città e delle scuole. Tutti quanti siete invitati.